Ma è pieno di lama, piccoli lama, ma è divertentissimo provare a stirare i lama Non ci posso credere, adesso chiamo Greenpeace Cosa? Vai 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 a prenderti i furgoncini dei belli Con la gattling sopra, vai 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 dritto dritto davanti a noi Scende questo? No non me lo fa prendere Ah beh se non siete lontano con te Adesso ti veniamo a prendere noi No che sfida Oh e scende da ste cazzo di auto Ho ucciso un ribelle Non sparare lama Ah tu ti prendi sotto le persone Allora prima missione Non sparare lama e fare una strage di diversi Ok Andiamo andiamo Ho ucciso un lama Ma scusa tu non sei mica quell'animalista Ma non è stata forza Non ho capito Cioè quando No perché No devi sapere a K che quando sparo io Mi fa un culo così Non vuole che uccide gli animali in nessun gioco Non posso fare nulla Adesso che è lui ovviamente Poi li è sovrecitato Gluter Stai facendo un casino Già se la vivo male questi poveracci Facciamoci sgamare adesso Portami dentro la fine casino Non sbagli Trovo un punto sopraelevato Non trovo che sopraelevato Aspetta Aspetta Ok cosa dobbiamo fare Raggiungi la stazione radio E beh droniamo 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 Guarda che non mi scena Ah ok No No è disturbato È un segnale del drone è disturbato È scemi C'è un Oh che palla Ok buono Pressione fallita si è stato scoperto Parla stealth questa Eh sì però Non lo so Perché poi iniziano a sparare È un casino Comunque il jammer Allora Il jammer è lì Ok Ok il cecchino Sono riuscito a segnalarlo Ok Se ce la puoi anche fartelo Eh Non riesco a vederlo bene Vediamo Che poi non mi ricordo Se ce la cazzo Fatto Ok l'hai fatto tu Ok Ok Ho fatto il cecchino Io direi Usiamo un avvistamento Lo usiamo là Ho chiesto una ricognizione dell'area ai ribelli Ok così ci abbiamo quei due lì Ok Ce n'è uno in alto E ci sono quei due lì in basso Questi io me li farai raga Che dite Questi due? Sì dai Io se volete mi faccio quello in alto Qua nella doretta l'ha fatto Scotty Oh ce n'è un altro L'ho fatto io Ok Vado a disattivare il jammer Così poi possiamo dronare Ok Ne ho uno qua vicino però Spero non mi bacchia Ok Ok potete andare con i droni Vedo un piccolo gruppo di nemici Attivo il drone Attivo il drone Ok quella è la casa C'è un altro C'è un altro C'è un piccolo gruppo di bersagli Qui c'è un cecchino Ok Dentro la casa Ce l'abbiamo tutti Raga secondo me se ci facciamo il 2 Siamo proprio tranquille Magari il cecchino potrebbe essere un problema però Da qua non riesco a farlo purtroppo Mi vede mi vede mi vede È difficile Non lo vedo da qua io No neanche io riesco a verlo Fatto Fatto La strada dovrebbe essere libera Io già sto andando dentro Occhio non farti Chi ha che ha Occhio che ce l'hai di fianco a cappa Questo posto è deserto Forse è scappato Forse l'ha avvertito qualcuno del nostro arrivo Ma sta ancora trasmettendo Bowman siamo alla stazione Perico non c'è ma qui stanno ancora trasmettendo Usa la stazione come ripetitore Non possiamo violarla senza la chiave di codifica Usate il drone per una scansione delle antenne I nostri esperti possono usare i dati in arrivo per trovare la sua posizione Della telefonata con Bowman ho capito solo scansione dell'antenna Anch'io non c'ho capito un cazzo Scansione dell'antenna No comunque sta maschera è troppo fiega La scotta è quella cinese E' fatta una scansione dell'antenna con il drone E l'antenna dov'è? Ah è qua No Ma dov'è l'antenna? Ah è qui l'antenna Fatto? Sione completata Spero solo che i tecnici riescono a trovare perico Ok Beh quindi l'abbiamo fatta sta missione Ottimo Ci si chiama i quattro che ci sono qua? Ora possiamo fare tutto quello che vogliamo Ora si Ehm Qua Andate a trovare perico a casa sua Perico a casa di perico Se è lì portatelo dentro altrimenti cercate qualcosa di utile Sembra Non vedo Non vedo nemmeno Ah si è pieno E' pieno E' pieno E' pieno Abbiamo sempre uno Dobbiamo accendere qui raga Dobbiamo accendere qua L'unità Non credo venga Non credo Mamma quanta gente C'è una battuta davanti Allora io vediamo se riesco a salire subito Ragazzi se venite dove sono io facciamo un giro tattico Se saliamo sopra Eh dove sta andando a k Bisognebbe togliere il cecchino Ah il cecchino te lo tolgo subito Se lo vedete voi si perché io da qua non lo vedo Salgo su questa collina e te lo faccio Eh non me lo ricordavo quando li segnalate mi fa tipo il segnalatore del predile Fatto Ok Visto Ok Si era figo Troppo figo Qua c'è un altro cecchino Questo potrebbe romper i coglione Allora uno ha visto qualcosa Se volete potete togliare la corrente qua C'avete solamente lui Se uno vuole andare a togliare la corrente è libero Ci potrei andare io però ah no ok è andato Vado io vado io Ah ci sono uno sul tetto raga c'è il due sul tetto eh Ve lo faccio eh Ok Mi beccano mi beccano mi beccano mi beccano mi beccano Dove 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 Non lo so penso l'uno Oh oh no basta ti Claude No è qua È qua Claude È lui che ti becca Allora sono allertati eh quindi Attivo il drone Eh l'uno non riesco a Chi è che sta sparando Scotti non so se ti ha visto a te o No a te a me a me non mi ha visto nessuno No neanche a me No neanche a me io sono nascosto A te sparavate a Claude Perché eravano sulla torretta Come ha fatto a vedermi era nell'angolo Non mi ha segnalato niente Adesso si Uno sta passando in mezzo Ok preso Ottimo bravissimo Ce n'è un altro però Quello però non credo che vada avanti Oh sì Io vorrei farmi quel cecchino di merda Però non riesco a vedere gli altri Ok Oh Ce ne sono un paio che vengono da dietro Comunque raga dentro Là dentro ce n'è uno eh Cioè siamo in quattro Ce l'ha ce l'ha Mettetelo in un sacco Ok Io qua ho pulito Possiamo entrare raga Ce n'è uno Ah beh là è nell'arma fissa Missione completata A posto Prossima missione Distruggi il convoglio Qua ci serve l'elicottero Contraerea La contraerea La contraerea Sta morto Cosa ho schivato Mamma mia Cosa ho schivato Eh perché c'è il sant'ora di Un'altra c'è un'altra contraerea Eh sto scendendo il più velocemente possibile Sto scendendo il più velocemente possibile Ok perfetto Mamma mia Ok cosa faccio vado di mettere l'elettrice Voi volete scendere? Voi volete scendere? Vi lascio sul tetto? No 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 possiamo fare anche del po' Eh il cecchino sul tetto Il cecchino fatevelo Chi che c'è sulla destra? Io Riesci a parte del cecchino? Oh ottimo Decisione confidente Vg Penso a sparare come un pazzo quindi Vai vai Non esplode raga Non riesco a prenderlo Ah no mai esplode mai esplode Per cui di tenere l'elicottero più fermo possibile Missione completata Ok l'ho esplode Se questa è una passeggiata Eh anche l'elicottero è completato Ah Aspetta no qua stiamo andando da un'altra parte Interrocca lex guardia Ma senza lo sforzo sei lo sforzo Paparapam 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 Raga occhio Adesso che ci stiamo avvicinando a Apocalypse Now Vai Alla missione Ok va bene Ah è qua sotto Sì Viene a parcheggio qua Cioè a parcheggio Atterro come alto Sì anche perché ormai l'elicottero L'è andato Oh in effetti è un rischio Allora C'è da farsi Il cecchino qui si può fare Questi possono L'uno lo faccio io E bisogna far fuori anche la Ok sono tutti Uno è morto Ho sbagliato C'è l'allarme Ho sbagliato Ah merda No scotti Preso Ok va bene Minchia aspetta C'è qualcosa Faccio l'allarme Perché sto vedendo rosso io Dove sono io Aspetta che Non c'erano prima Eh perché Vedi rosso ma sono dentro Dentro la montagna Molto probabilmente Ok No a prima non me li sentiamo Ok perfetto Ok Ce ne sono guardie Uno è dentro No ma sono tutti Sono dentro Sono dentro Quelli Eh vabbè scusa Uno E due facciamoceli no Io sparro il due Ok Ok Andiamo Interroghiamo la guardia No 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 Già sono arrivato All'obiettivo Sì Grazie Anch'io 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 Dietro di te Vai Ho preso io Vai vai Interrogalo Interrogalo Sei Arturo Ruiz L'ex guardia Di DJ Perico Sì sì Tu ho sparato il mio cane Un tuo amico No no Proprio il mio cane Mi perro La mia paloma Non ha mai fatto male a nessuno Perico Occhio 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 Ce n'è uno sopra Il grandissimo figlio di puttana Stava cercando di fumare dell'erba Con un aero e quindici È partito un colpo Ha preso il paloma O con dei minuti di notte Mi sveglio tutto sull'altro Con i gridi Puoi vendicarti di Perico Dimmi il suo vero nome Nemico a terra Il vero nome di Perico È Marco Garcia Non ho una foto Ma spero Io sto guardando loro due Ah guardia interrogata Ottimo Sì sì Ce l'avevo fatta io Tutta questa fatica Per ottenere un nome ordinario Come Marco Garcia Sì sì Pensavo ci fosse altro da fare Inviagli il nome Magari ci manderanno una foto Per identificare quel bastardo Eh qualora è colazzato Sì Abbiamo abbastanza dati Per darvi l'area Dove si trova Perico Fategli una visitina E mettete le mani Sulla sua chiave Quindi quando li metto Il bisogno del predatoratore Mi chiesto Quindi c'è i Loro che parlano E sono tutti quanti Eh Prossima missione Eh Trova di G Pericolo Io lo so dove Eccolo lì È il punto più stronzo Eccolo lì Eccolo lì via libera Eccolo lì via libera Minkia sembra lo ricordo Siamo di se è pericolo Eh cosa facciamo Andiamo cazzuti o Eccolo lì via libera 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 Mamma mia Quanto è passato Cosa ho scrivato È proprio sotto È proprio davanti a te È proprio davanti a te Adesso vado a fottermelo Questo stronzo All'archiere Tutta una vacca Cazzo Paracadute raga Paracadute Non ci sono arrivata Non ci sono arrivata Non ci sono arrivata È bello che mi è rimasto così Il personaggio Guarda Qua c'è gente però raga Qua davanti c'è gente Droni Vedo un sistema di difesa aerea Questo lo facciamo assaltare Da subito Questo fate però Ok Ah no c'è un altro mi sa Allora sono scolati Proprio nella I7 Ok L'allarme bisogna fare anche Che se suona l'allarme è un casino Eh qua Qua ve lo ricordo È bello tosto Eh vai vai Fattelo 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 Sì Vai C'è anche il mortai Va quindi Ok L'allarme L'allarme bisogna fare Che se suona è un casino Fatto Ok l'allarme ho visto Non ci sono arrivata a beccarle Tutti quelli lì dentro Penso che c'è qualcuno dentro Se c'è il 3 Fattelo Fattelo quando vuoi Oh c'è un altro C'è un altro raga dentro Aspetta che ve lo drono Eh sì è quello In che intendevo Non Eccolo Fatti l'uno Fatti l'uno Fatto Ottimo Occisione confermata Eeeh E qua Qua un casino Qua sopra c'è il corazzato E il mortaio Cosa? C'è un bersaglio Eeeh Fai la mira Ok In basso mi sembra In alto In alto In varie games Mamma mia Quanta gente c'ha Cerchiamo sempre di fare Prima l'allarme Prima di farci esgamare C'è l'allarme di nuovo? L'allarme me lo faccio Sì c'è un altro allarme E qua ce n'è uno col mortaio E uno qua con Con la metrallatrice Mamma mia Mamma mia Se ci Oh 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 Ma è morto il tipo L'ho ucciso io Allora qualcuno sopra Già lo sei Incominciato a segnalare Mi calma Mi calma Mi calma Aspetta aspetta Ok l'avete fatto Ok Riuscite a fare il tra? Me lo faccio io Se riuscite a fare quello fuori Fatelo Ok Fatto però Il tra si è allarmato Il tra si è allarmato Ma me lo faccio io Ok Fatto C'è quello lì che sta salendo Me lo faccio Quello Ok Quello è fatto Fatto Bravissimo Io l'ho mancato Boh Possiamo salire Poi abbiamo fatto tutto C'è qualcuno L'ho segnalato E ora vediamo Quello lì è No no Non è la contraria Quello il missile lì È il bombardamento Il mortaio Bravo Mortaio Infatti quello lì È un casino Se ti sgamano E iniziano a A lanciare quello È veramente un casino Da dove sti stare? Ma tornare Di qua E poi è un bordello pure Ce n'è uno là dentro Però secondo me Non ci sgamano Possiamo salire Ancora un po' Ok Ha segnato già qualcuno Anche sopra Così già Ok Il drone io così Vi aspetto qua raga Andiamo così Avanziamo insieme Allora dove siete salite voi? Tutto a destra? Ok Lui è il più pericoloso L'uno C'è un generatore Spegniamo la luce Ehm Aspettate allora Marco un nemico Ok ho trovato anche l'ultimo Eh lui anche Ehm Il 4 Il 4 è pericolosissimo Provo a Check inarlo Se qualcuno vuole Ci Ah Fattelo 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 Preso È morto Preso C'è un altro Sulla torretta C'è l'uno Lì Fatto Ok perfetto L'ha fatto Rockloader L'ha fatto già Claude L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto Io L'ho fatto io No Sopra no Assoluti Fatto Cioè Io se volete Mi posso fare il 2 Ehm Qualcuno dovrebbe Ah no È entrato il 2 Eh Entriamo insieme Ci rifacciamo tutti Questi qua dentro Sono entrati Sono tutti dentro Sì Uno è qua Due ce li ho qua io Il 2 e il 3 ce li ho qua io No uno è fuori Uno è fuori Mi stacco la corrente Ok Ok Andato Andato Allora qua erano tre Poi se c'è qualcun altro Non lo so Ah beh Se ci sono zone rosse Le vediamo subito C'è qualcuno Sopra Ma sopra Non lo so Ti fai l'uno Mi sta tocamando Mi sta tocamando Mi sta tocamando Mi sta tocamando Preso Ok Ottimo Il pulito Qua è pulitissimo Lo vediamo più avanti Sì sì dove è segnalato e quando c'è proprio nessuno no 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 c'è quello no qualcuno c'è però ma ancora c'è gente il 2 si può fare da solo fatto do una sistemata al cecchino ok e ce n'è uno dentro quella casa eccolo qua un altro dovremmo averceli tutti c'è un piccolo gruppo di bersagli fuori guarda qua ok sono tutti marcati sono tutti quanti marcati bravissimo andiamo dal dj ehi vedo perico interrogo hai perso la lingua dj ehi guardami ti sembra forse un sicario non dovete uccidermi ah si e perché ho dei sogni da realizzare tutta una vita davanti dacci la chiave di codifica del sistema della stazione ok ok ma io non ti ho detto niente ok quando vi chiedono il nome utente digitate BIDBOM BIDBOM assapora questo momento perico il giorno in cui sei quasi morto il giorno in cui ti ho risparmiato Beh, risparmiate ancora tutto bene Ok Quindi qua abbiamo finito? Completata Ah dai, è stata semplice, dai Ah, qua vi divertite Ah, la contraerea Ah, questa qua è quella finale Oh, mi ha lasciato a piedi, mi ha lasciato Super forti Comunque siamo praticamente arrivati, eh? Eh, questa qua è la diga, Claude Ti ricordi la diga dove avevamo preso il... Vabbè, allora, io direi che un paio di persone qua le possiamo già check in area Ok Partiamo col piede giusto Tipo Qui ci sarà qualche... Ecco, infatti Tipo uno e due Se mi date una mano possiamo iniziare a stenderle Da qui non li vedo, però Se ti sposti un pochino... Qua ci sono i maiali Ok, là ho fatto la segnalazione così già Eh, io da qua ne vedo uno solo, però Io vedo l'uno io Allora vediamo da qua cosa riesco Io vedo l'uno Io c'ho il due Quando vuoi vai Non lo vedo più Come no? Vai, tre Due Uno Quello è fottuto Oh, grandissimo Ok Ancora? Eh, ancora sì, guarda davanti ce n'è Però sono tre, no? Ah, sono tre, dobbiamo farli tutti e tre insieme Il tre ce l'hai? Ce l'hai? Sì, sì Io c'ho... Chi è? Il uno Ok Aspettiamo che si fermano però Due Aspettiamo? No, boh, come volete, andiamo, proviamoci Tre No, aspetta, ha cambiato direzione il mio Eh, tutte Vado Tre Due Uno Via Mar del muretto non l'ha trapassato Aspetta che ce l'ho Ok, va bene, va bene, va bene Bella, stop Io l'ho mancato L'hai preso te, il due, mi sa Forse l'ho ripreso io perché poi ho risparato di nuovo Però non lo so Sì, qui davanti Mi sa qua dentro Sì, sì Uno è là Forse uno solo ce n'è Fatto Ok Ok Allora, dovrebbe essere tutti segnalati Cavoli, dovevamo prendere l'auto Qua ci stava la macchina di ribelli Eh, roba, fa niente Tanto ce ne sarà un elicottero No, non ci vuole tornare indietro Eccolo Ecco l'ingegnere Lui è solo Ah no, c'è uno nel cabinato Quello è fottuto Eeeh, vabbè Non hanno visto niente in teori No, no, no Però lui si sta avvicinando Quello non si vede bene quello sopra No Mmm, poco si vede Eeeh Io provo a prendere posizione E elimino quello in alto Io riesco a prendere quello sopra Fattelo, fattelo, fattelo Se riesci ci fattelo Ok, va bene L'ho preso io L'ho visto Col visore termico Se riusci a prendere Ok C'è quello che non vedo Vediamo se col termico si vede Ok, lo vedo io Sto qui sopra io, si Hanno visto qualcosa comunque Un cadavere hanno visto Ok C'è la testa questa Il tipo lo devi prendere, basta Eh, non lo so Parla con l'ingegnere Non so che non me lo ricordo Occhio che sono allarmatissimi Beh, comunque sono in pochi, eh Quanti ci sono in pochi, eh Quanti ci sono in pochi, eh Forse che ne è rimasto uno solo Sare davanti Ok Ok Vai, vai, prendilo, prendilo Qua ci diventa impiccato Ma lui, doveva estrarlo E sta buono, andiamo Dobbiamo, dobbiamo portarlo via Elicottero, elicottero Vai, vai Eh, ci sono i ribelli Eh, sì, ho aperto la gabbia Ah, ok Ah, però anche questo Allora, questa qua è stata proprio Non dobbiamo scortare Pulito, pulito Filotto io? Ma è con noi, eh Sì, sì Ma perché è sparito la... Sì, 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 sì Elicottero Ma non pensavo che avrebbe chiamato gli americani Per salpare uno come me Ci servono le tue conoscenze tecniche per la missione Dobbiamo deviare il segnale di DJ Perico No, mierda Mia moglie ama la sua trasmissione Io le dico, hey Guarda che quello è Nelicol E lei Ma mi fa troppo ridere E lei ha sempre l'ultima parola Ma come? Ma che dico? Ma che cazzo? Che c'è? Estrae Compa Grazie ancora Compa Compa Caracolo Non temere Prima lo faccio E poi vediamo Adios Non temere Prima lo faccio Adios Adios Quindi Wow Ok Un carregamento lunghissimo Ah l'abbiamo finito Come misurate le reazioni che otteniamo Quando non scattano selfie Il mio team dei social media controlla i trend online Hashtag DJ Perico sta regalando delle gif esilaranti Passo e chiudo Quindi qua abbiamo finito Ottimo 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 Un'altra zona l'abbiamo liberata Buono Grazie a tutti